ciao a tutti ciao a tutti lunedì al garage di asso e come tutti i lunedì è un lunedì di lavoro i don't like mondays cantano i buntamorez diversi anni fa invece a noi i mondays ci piacciono molto un bel rullantino usato ma tenuto benissimo pelle nuova comunque joy jordison e poi 16 ghili di pelli accessori di evans quindi ce n'è un po per tutti eccoci qua il lunedì al garage di asso un mazzo infinito si suda tanto io e max vi salutiamo ciao ciao